La numero 2 che è il Cifo, la numero 3 che è esattamente lì, l'Isolidio Mattei. Informare la popolazione sulle aree di attese e fronteggiare un ipotetico scenario di esondazione del torrente Arzilla. Sono stati più di 20 i volontari del Cibi Club Mattei, guidati da Saverio Livi, che insieme all'amministrazione comunale e agli abitanti della zona, domenica mattina hanno messo in pratica una simulazione che ha già permesso, negli anni precedenti, di risolvere con il minimo disagio eventi straordinari come l'evacuazione per la bomba del 2018. Nonostante l'importanza di questa prova generale, non è stato semplice coinvolgere i residenti. Chi ha aderito, si è recato nei punti indicati dai volontari per poi spostarsi al centro civico di Gimarra, dove è stato distribuito del materiale informativo e fornite le indicazioni utili. Soprattutto per noi stamattina è importante perché noi abbiamo un volontario con un mezzo in ogni area di attese, soprattutto diversi volontari sono andati ad avvisare la popolazione lungo il torrente Arzilla. Quindi per noi è importantissimo perché già conosciamo le abitazioni che sono interessate lungo il torrente Arzilla, quelle che andranno sott'acqua in caso di esondazione e quindi già è una parte che conosciamo con i volontari e quindi questo è molto importante. Poi allestire un coca all'esterno su questa tenda con le comunicazioni radio, qui ci sono forze di polizia, carabinieri, polizia e tutta l'amministrazione comunale e quindi è una sinergia insieme per quando succede siamo pronti e ognuno sa quello che deve fare. Quali sono le aree e i punti di attesa previsti? I punti di attesa sono sei, uno è il parcheggio scambiatore numero uno, poi è ex-chief, dietro l'hotel Elisabeth, il parco davanti al Conat Canale, poi abbiamo il parcheggio di Fano 2 e il parcheggio dietro la chiesa di Cintinerola perché sotto il sottopasso dell'autostrada, alcuni non potendolo attraversare, alcuni sono dietro la chiesa di Cintinerola, alcuni fanno due. La stessa cosa succede con il ponte in pratica sull'Arzilla che è una parte al parcheggio scambiatore e una parte al CIF a destra e a sinistra del ponte perché queste aree non valgono solo per le esondazioni ma valgono anche in caso di terremoto se dovesse cedere il ponte sia dell'Arzilla o altri ponti. La macchina dell'emergenza deve essere sempre efficiente e rodata, hanno fermato il sindaco Seri e il vice Fanesi. L'organizzazione del Cibiclub Mattei di Fano hanno giunto se sempre contraddistinta per una grande operatività. Come già avvenuto in precedenza per Vallato e Cucurano, anche quest'anno ci esercitiamo per poter rispondere in maniera tempestiva ad ogni tipo di situazione. Vogliamo precisare, hanno concluso, che al momento non ci sono rischi reali sul torrente Arzilla ma dobbiamo comunque tenere alta l'attenzione. Queste esercitazioni sono un'occasione per informare perché la gente è giusto che sia informata ma soprattutto sono importanti per noi che collaudiamo e manteniamo sempre alta il livello di efficienza, di efficacia e di preparazione per le emergenze perché farsi trovare impreparati significa complicare le situazioni. È importante l'informazione per la gente ma sappiamo che la gente non sarà mai realmente informata al 100% mentre noi dobbiamo essere sempre preparati al 100%. Su questo Fano è sempre a grande senso di responsabilità e queste esercitazioni, che peraltro non è la prima, ne abbiamo già fatte in altri quartieri, continueranno. Sono un'occasione per rimanere in allenamento, consentitemi questo termine, però è anche una garanzia per i nostri concittadini che sanno che quando, sperando che non si verifichino, quando si deve servire qualcosa, noi siamo pronti. Il sistema di protezione civile è un sistema che appunto si basa sulla collaborazione di diverse componenti, lo Stato, la Regione, il Comune, ma una componente fondamentale è comunque sempre il cittadino. Allora noi dobbiamo informare il cittadino perché in caso di emergenza possa dare il proprio contributo nel comportamento, nel raggiungere le aree di attesa come abbiamo fatto oggi perché è ovvio che un cittadino informato è un cittadino attivo, è un cittadino che aiuta in caso di emergenza il sistema di protezione civile.